Sì, è un felice immenso, sono molto felice perché abbiamo trovato qualche sogno nella mia testa. Fa cinque mesi che voglio questa partita, di ritrovare anche i ragazzi, di fare una bella partita. È fatto, adesso dobbiamo guardare davanti, abbiamo tanti a fare ancora, dunque è un buon punto, sono molto felice ancora, ma dobbiamo guardare davanti adesso. Sì, è particolare, ma non voglio fare di questo punto il punto principale. Il punto principale secondo me è di fare una bella competizione tutti insieme, di avere una ricompensa anche di tutto il lavoro che facciamo con lo staff durante i due anni, dunque è importante finire tutti insieme su una buona notte. abbiamo tutti per fare una bella competizione, dunque adesso abbiamo le chiavi. No, è per questo anche che facciamo queste partite, è per questo dobbiamo crescere. L'obiettivo principale è di essere pronti per il mondiale, non adesso, dunque sappiamo che dobbiamo fare un po' meglio ancora su qualche punti, ma no, siamo sulla buona strada, dobbiamo ancora lunedì ritornare all'allenamento e sono sicuro che le prossime partite saranno belle. No, non ancora, non ancora, ma tre mesi tutti insieme e spero che alla fine sono molto meglio, sì.